comoda pratica city car ecco una upel carl è un mille benzina da 75 cavalli della metà del 2016 appena tornata dal lavaggio e appena fatto la revisione guardate che bella ben tenuta adatta anche ai neopatentati questo è un mille benzina come dicevo 75 cavalli ma essendo omologata quattro posti come potete vedere è adatta anche ai patentati belli sedili in tessuto grigio bel grigio scuro regolabili in altezza il sedile anteriore vitri elettrici l'auto piccola compatta ma che ha tutte le comodità allora intanto vediamo i chilometri solo 36.700 in questo istante ovviamente dotata di radio e collegamento al telefono per poter avere insomma viva voce viaggiare in sicurezza auto climatizzata ovviamente con la gestione della radio al volante il cruise control c'è una piccola chicca una piccola chicca auto molto comoda economica facile da parcheggiare veramente tante belle caratteristiche in una piccola auto compatta chilometraggio ovviamente certificato in fattura manutenzioni e tagliandi regolarmente eseguiti e documentati se cercate un'auto piccola venite la vedere a provare qui a 6 marce nel nostro deposito di varallo pombia grazie a tutti grazie a tutti